Medici abruzzesi in missione per individuare coloro che a causa della guerra in Ucraina non hanno più l'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno, così da trasferirli negli ospedali italiani. La regione Abruzzo è tra le otto regioni italiane che attraverso la CROSS, la centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario, attivata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, parteciperanno a una missione internazionale sanitaria e umanitaria di sette giorni in una località polacca al confine con l'Ucraina. L'Abruzzo è tra le poche regioni, 7-8 in Italia, che partecipano a questo team. Andremo in Polonia, ai confini con l'Ucraina, a fare uno scouting, a cercare a vedere quali sono gli ucraini, soprattutto i bambini che hanno necessità di immediato ricovero, non parliamo di vittime della guerra, ma di persone ad esempio malati oncologici o oncoematologici che hanno bisogno di cure che in questo momento non possono essere più fornite. La dottoressa Amalia Contini e il dottor Andrea Di Blasio del pronto soccorso di Pescara, il medico anestesista Mariangela Battilana e il logista della Protezione Civile abruzzese Vincenzo Leo Celeste, questo il team abruzzese che raggiungerà la Polonia. Nella nostra regione oggi invieremo dei medici e anche dei sanitari che avranno un compito ben preciso che è quello di verificare quali sono le condizioni dei futuri assistiti nella nostra regione. Non si parla di persone che hanno ricevuto dei danni in guerra, ma delle persone che hanno delle patologie. Purtroppo prevalentemente queste patologie sono in età pediatrica e già noi nelle nostre arse abbiamo messo a disposizione sia dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva sia adulti che per pediatri, ma soprattutto sono arrivati e stanno arrivando in queste ore due bambini anche che saranno ricoverati in oncoematologia.